Vieni da me, Caterina Balivo ospita Gigi Marzullo e con lui fa il classico gioco della cassettiera. Gigi Marzullo è ospite della puntata di oggi 8 gennaio 2019 di Vieni da me, con Caterina Balivo. Il gioco della cassettiera inizia con gli auguri di Fabio Fazio che ironizza sul fatto che per una volta lui sarà l'intervistato. Fabio Fazio fa una buona televisione, intelligente. Ogni domenica sono nel suo programma, ma vado col treno, non prendo più l'aereo perché ho paura di volare. Volo solo sognando. Inizia così l'intervista con Marzullo. Gigi Marzullo, ho paura di morire, sono rimasto solo. Mio padre era un uomo coraggioso, non avevo paura della morte e scomparso a 90 anni. Sia lui che mia madre erano insegnanti elementari, proprio come mio nonno ed è stato lui ad insegnarmi a leggere e scrivere. Quando ero piccolo vivevamo a casa con mio nonno e i miei zii, lui era un insegnante all'antica. Mia mamma è morta qualche mese fa a quasi 90 anni, me li sono goduti fino alla fine. Li ho portati a vivere a Roma con me. Ogni settimana con mia mamma andavamo a cena fuori, parlavamo lungamente, è stata di una lucidità incredibile fino alla fine. Mi ha chiesto di scrivere insegnante sui manifesti dei morti quando sarebbe stata la sua ora. Questo è un simbolo della sua grande dedizione. Gigi Marzullo, ho paura di morire, sono rimasto solo. Mio padre era un uomo coraggioso, non avevo paura della morte e scomparso a 90 anni. Sia lui che mia madre erano insegnanti elementari, proprio come mio nonno ed è stato lui ad insegnarmi a leggere e scrivere. Quando ero piccolo vivevamo a casa con mio nonno e i miei zii, lui era un insegnante all'antica. Mia mamma è morta qualche mese fa a quasi 90 anni, me li sono goduti fino alla fine. Li ho portati a vivere a Roma con me. Ogni settimana con mia mamma andavamo a cena fuori, parlavamo lungamente, è stata di una lucidità incredibile fino alla fine. Mi ha chiesto di scrivere insegnante sui manifesti dei morti quando sarebbe stata la sua ora. Questo è un simbolo della sua grande dedizione. .